grazie mille grazie mille sono molto fiero di ciò ti abbraccio no mi metto spork non è vero che non me li tingo ogni tanto me li tinghi ma in realtà perché diciamo i bianchi sono ancora non tantissimissimissimi però ogni tanto questi qua davanti questi qui ogni tanto li faccio un po' più biondi vabbè ma io ti amo cioè io ti amo cioè io un commento così me lo prendo me lo metto in tasca e me lo porto in giro è bellissimo ti ringrazio molto eh amore di zio ma io non conosco non ti conosco non conosco le tue inclinazioni le tue passioni sviluppa sviluppa le tue passioni le tue inclinazioni fai le cose che ti piacciono piano piano viene tutto da sé mi alleno quattro volte a settimana come da programma del mio coach Lino Gentile che per la struttura Piano G si occupa della mia alimentazione integrazione allenamento no no sono io che chiedo a tutti di darmi il tu non mi fate sentire vecchio io lo so che c'ho i miei anni però datemi il tu e ne sono molto felice ti ringrazio infinitamente ho la mania della comprensibilità di far capire le cose che dico grazie infinitamente ah proprio lui personalmente eh potrebbe darsi che abbia ancora un'attività di questo genere nonostante l'età sia abbastanza avanzata vai in boutique lo trovi spesso sia da Giorgio Armani che in Emporio Armani a Milano lo trovi spesso lì sì il quadro dietro di me è di Iorit Agoc il grandissimo straordinario Iorit Agoc conosciuto in tutto il mondo che ha voluto bontà sua ritrarre anche me non mi dica così mi fa emozionare io sono notoriamente molto timido vede arrossisco tu hai capito alla mia età tra l'altro bimbe ma potreste essere tutte mie nipoti altro che figlie potrei essere vostro nonno mi fate arrossire guardate le guance guardate come arrossisco e su dipende dipende da un sacco di cose amico mio tu utilizzi una terminologia ormai desueta che riguarda i multilevel degli anni 90 far entrare persone sotto di te questa è una cosa che si fa nei business illegali cioè nei business piramidali quando qualcuno entra sotto di te vuol dire che il business è piramidale quindi è illegale qual è la differenza tra i business legali e quelli illegali e che quelli piramidali sono illegali in giro ce ne sono parecchi purtroppo però è importante sapere che se entra qualcuno sotto di te vuol dire che quel business è totalmente illegale non si può guadagnare ottimo a percentuale sul cliente che entra sotto di te perché questa è una cosa illegale per questo io faccio gigos perché come molti altri e li voglio nominare perché è importante nominare i business legali anche se io non lo faccio come Amway come Jeunesse come Herbalife ce ne sono come Nahrin ce ne sono tanti di business legali io faccio gigos perché mi interessa l'oro 24 carati ma quando il business è legale l'algoritmo che ti consente di guadagnare non può essere piramidale quindi non entra nessuno sotto di te entrano nella tua rete è diverso ma io come faccio a capire se la persona che entra non sotto dopo ok usiamo quest'altro avverbio dopo di te ha la possibilità di raggiungerti e di superarti nella carriera che puoi fare all'interno di questo network marketing allora vuol dire che quel business è legale se quella persona non ti può mai superare significa che è piramidale e quindi è illegale ecco perché io dico che bisogna scegliersi il business con tanta cura poi per carità c'è un sacco di gente che fa dei business illegali guadagna dei soldi e la sera dorme lo stesso e mette lo stesso la testa sul cuscino per carità io non riuscirei a dormire sapendo che sto guadagnando dei soldi inguaiando altra gente e facendo una cosa illegale perché poi questi sistemi piramidali durano il tempo che durano perché non sono sostenibili e di conseguenza non è oggi non è domani scompaiono non come aziende come Gigos Herbalife Amway che esistono da decine e decine di anni gli altri si fanno quei due tre anni di gloria e poi scammano quindi spero di essere chiaro nell'averti spiegato la differenza molta attenzione quando si sceglie un business nel settore del network marketing che sia legale quindi non piramidale che abbia un prodotto e quindi non un sistema ponzi grazie no ma io qua devo fare il video non lo volevo fare ma no allora lo devo fare cioè il mondo di tiktok voi pensate al mondo di tiktok uno mi fa una domanda dice qual è l'attore più importante con cui tu hai lavorato e io ho raccontato che l'attore più importante con cui io ho lavorato è Michele Placido Michele Placido oltre ad essere l'attore più importante con cui io ho lavorato per me è il miglior attore italiano il più grande attore italiano della sua generazione per me lui scrive ma Castellitto dove lo mettiamo nel confronto su Padre Pio e Due Spanne Sopra e Favino e Giannini allora come si chiama Cipolippo 76 John Homme Cipolippo 76 ah l'hanno domandata a me quando domandano a te tu rispondi quello che vuoi tu figli e lo domandano a me a me è Michele Placido e l'hanno domandata a me è chiaro poi io con Castellitto con Favino e con Giannini non ho lavorato quindi come facevo a nominare dopodiché se a me piace di più Michele Placido ho detto che Giannini Favino e Castellitto sono tre chiaviche non sanno recitare sono tre inutili non è che se è bravo Placido gli altri fanno schifo per me Placido è il più grande attore italiano della sua generazione e ripeto fatene una ragione l'hanno chiesto a me quando lo chiedono a te tu rispondi quello che vuoi tu o no allora o in nolle Gigos è la prima piattaforma al mondo della vendita di oro 24 carati ma per capire bene un business quando ci viene una curiosità su un business su un qualcosa di serio qualcosa che ci può far guadagnare dei soldi ci può far svoltare ci può rendere la vita più semplice non è che si può chiarire un concetto si può scoprire con un messaggino su tiktok no tu ti rendi anche conto del fatto che magari ci sono tempi e luoghi deputati a spiegare un determinato tipo di cose quindi se sei interessato all'argomento tu ti segui una videoconferenza ti segui una presentazione del business fatta come si deve mi scrivi in privato e segui una presentazione fatta in videoconferenza su zoom ma non puoi pretendere di capire un business parlando con i messaggini sotto un video di tiktok eh amico mio lo capisci anche da solo no?